Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vi mostro questa maglia speciale dell'Italia per il 125esimo anniversario in edizione FAN! Oggi vi mostro questa maglia speciale! La maglia è molto bella, tra l'altro particolare per un'edizione speciale. Il costo come al solito lo vedete qui sopra, non aggiungo altro, molto basso, tra l'altro vi faccio notare che include anche le spese di spedizione. Trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Mi raccomando andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di fare. Il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi alla parte finale, vi chiedo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie!